verso il bambino cercando di non prenderlo calmo gabri calmo chiudi la destra verso l'altezza della montagna o vedi che ti fermi dai guarda quanto spazio all'altro paletto usiamo il sinistro per l'altro paletto capito a sinistra verso l'altro paletto ma va bravissimi ancora dai destra verso l'altro paletto abbiamo un fracco di spazio dai bravo capro vai datone che non cadere che sei in video bravo dato saluto dai tutto di là bravo capro